con questo video tutorial andiamo a vedere come compilare la domanda di ricostruzione della carriera diciamo che dovranno compilare questa domanda i docenti neo assunti in ruolo nel 23 24 e che hanno superato l'anno di prova anche i docenti che hanno fatto un passaggio di ruolo dalla scuola per esempio primaria o dell'infanzia la scuola secondaria di primo secondo grado e che hanno superato l'anno di prova e dunque hanno il decreto del superamento dell'anno di prova dovranno compilare la domanda riguardante la ricostruzione della carriera andiamo innanzitutto a entriamo nel sito del ministero dell'istruzione del merito cliccando in accesso e poi in area riservata avendo fatto la già la login con le istanze online andando su istanze online entriamo sulla voce accedi al servizio e abbiamo la pagina delle istanze online dove tra i vari moduli aperti c'è dall 1 settembre 2024 la richiesta di ricostruzione della carriera questa domanda dovrà essere compilata ma non prima di aver compilato un'altra domanda che è la dichiarazione dei servizi se la dichiarazione dei servizi è già stata compilata durante l'anno di prova come sarebbe dovuto essere allora ce l'avete già compilata e non la dovete ricompilare però nel caso in cui questa dichiarazione dei servizi non sia stata compilata nell'anno di prova andata vai alla compilazione ecco entrati in vai alla compilazione c'è una dichiarazione riferita proprio qui l'utente prende atto dell'informativa di cui l'articolo 13 regolamento europeo 2016 679 che si riferisce al trattamento dei dati personali facendo clic su questa voce poi facendo accedi si entrerà in una pagina che in cui troverete tutti i vostri dati personali per cui facendo ancora avanti entrerete proprio nella domanda del dichiarazione dei servizi quindi vi troverete in questa pagina proprio per verificare i dati anagrafici che sono già stati caricati al sidi voi avete delle voci che dovete andare a compilare qualora diciamo siate nelle condizioni di poterlo fare ci avete dei servizi pre ruolo da poter dichiarare per esempio la numero 1 sono i periodi lavorativi fatti non di ruolo dunque da precari da docenti precari prestati nelle istituzioni scolastiche in qualità di personale docente ecco qui per i docenti compilate questa pagina e troverete proprio la pagina divisa in due parti la parte sinistra dove avrete i già inseriti in a sistema in questa parte sinistra vi faccio vedere questa parte sinistra è una parte in cui troverete tutti i vostri dati riferiti al vostro precariato possono essere selezionati tutti e quindi importati nella parte destra dello schermo questo è importante perché vedete scendendo potete avere tutti gli anni di pre ruolo fatti tutte le supplenze sono state caricate al sistema e quindi avrete la possibilità scendendo col cursore di vedere tutti gli anni per esempio qua c'è un anno svolto dal dicembre 95 al maggio del 96 e poi proseguito dal maggio 96 al 31 agosto 96 vedete avete tutta la possibilità di indicare tutti gli anni inseriti già a sistema dal siti dalle segreterie scolastiche basta fare importa dati selezionati e nell'importo dei dati selezionati voi troverete che la macchina ha portato i dati a sistema per la vostra dichiarazione fate salva e però il sistema vi dirà che dovete compilare ancora delle parti vedete ce li avete segnate in rosso per esempio fate tipo di posto ecco per sapere perché il sistema ha caricato una parte dei dati ecco tipo di posto potrebbe essere molto probabilmente in questo caso era un posto comune attività poi svolte dunque posto comune avete inserito l'attività svolta ecco dovete indicare se un'attività di sostegno un'attività normale era un'attività normale e poi comparto scuola la qua avete la prestazione del servizio dove avete prestato il servizio per esempio se l'avete prestato in una scuola statale carcerale in una scuola di montagna o semplicemente prestato in scuole statali questo era prestato semplicemente in una scuola statale poi avete anche dei richiami e se eravate provviste il titolo di accesso chiaramente nel caso specifico il titolo di accesso era c'era ecco se avete avuto il diritto alla retribuzione estiva lo dovete indicare poi fate conferma e il dato è stato quindi confermato facendo di nuovo salva e troverete un'altra situazione del genere dunque caricherete a una una tutte le situazioni che come fatta con la prima e quindi avrete poi alla fine di tutto quanto tutte le dichiarazioni postate inserite al sistema quindi alla fine farete l'ultimo salva e la dichiarazione dei servizi diciamo a questo punto e cosa fatta dopo aver fatto la dichiarazione dei servizi ritornando sul sito del ministro dell'istruzione rifacendo l'accesso e quindi andando all'area riservata a queste dunque sulle stanze online e facendo di nuovo accedi andate a fare la ricostruzione della carriera e inserite proprio il fatto che avete già dichiarato i servizi richiesta di ricostruzione di carriera vai alla compilazione una volta andati alla compilazione vi dirà che la presente istanza destinata al personale emesso il ruolo che ha superato non consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati anteriormente alla nomina di ruolo fate avanti vedete ci avete tutti i dati i vostri dati anagrafici fate ancora avanti e di direte che avete già presentato la dichiarazione dei servizi perché l'avete appena inviata precedentemente quindi fate ancora avanti e con il vostro codice personale inserite il codice personale dell'istanza online e fate inoltre per inoltrare la domanda è importante dire far sapere che è cambiata la modalità della ricostruzione della carriera perché con il decreto legge 69 del 13 giugno 2023 questi nuove ricostruzioni della carriera e parte proprio da chi è entrato in ruolo nell'anno scolastico 23 24 e dunque si appresta dall'1 settembre 24 al 31 dicembre 24 tempo di presentazione la domanda della ricostruzione della carriera a fare la dichiarazione dei servizi e a richiedere la ricostruzione della carriera il calcolo degli degli anni per ruolo riconosciuti per la ricostruzione della carriera si modifica ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 69 del 13 giugno 2023 che va a modificare il testo unico della scuola in particolar modo il l'articolo 485 e il 489 ma questo poi sarà oggetto di della prossima edizione di a domanda risponde arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti